Se Ecofficina non aveva le carte in regola per partecipare al bando Sprar di Due Carrare, e ciò è dimostrato perché lo dice la stessa prefettura, allora non le aveva nemmeno per vincere il bando dell'Otto 2, quello che si era giudicata per gestire l'accoglienza a Bagnoli e Prandina. Ma quella gara era stata particolare per un altro motivo. Avevano partecipato infatti cooperative legate allo scandalo di mafia capitale ed erano state escluse per carenze nella documentazione. Di fatto era rimasta solo Ecofficina ed è vero che non aveva i due anni di esperienza ma nell'ottica dell'emergenza c'è stato valutato nel punteggio dato dalla Commissione. Un'altra partita sarebbe invece se la cooperativa avesse presentato anche alla prefettura le carte false, ma allora si darebbe per scontato che qualche complice ci deve essere, anche tra i funzionari. Intanto a Due Carrare il bando è stato riassegnato. Certo è che l'indagine è nata a seguito di inchieste giornalistiche e c'è da chiedersi invece quanto si sarebbe atteso perché qualcuno si facesse vivo con i carabinieri in procura per segnalare le irregolarità. Ora è da capire che cosa possono fare gli uffici territoriali del governo per non incappare in certi imbarazzanti chieste. La prefettura deve assolutamente implementare, aumentare i controlli e sulla base dei bandi che verranno emanati cercare di introdurre criteri che aumentino la partecipazione ai bandi stessi proprio per evitare la concentrazione di troppi centri di accoglienza nelle mani sempre gestiti dalle stesse cooperative. Probabilmente ora sarebbe arrivato anche il momento di modificare l'approccio alle gare. Questa non è più un'emergenza. Sono almeno due anni che i flussi migratori sono programmati e sono attesi. e quindi questo fenomeno non va più gestito in modo emergenziale. Ci sono tutte le condizioni anche dal punto di vista normativo per gestirlo in modo ordinario che significa fare le procedure di gara in modo corretto senza farsi scavalcare dall'emergenza e in questo modo è possibile prevenire anche alcuni dei reati di cui oggi si parla. Grazie. 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 Grazie.